Il mister di conferenza stampa ha sottolineato quella di Arzachena e per questa squadra un esame di maturità. Perché? Perché veniamo comunque da un risultato di grande prestigio nel derby col Pisa e abbiamo una necessità di, come dissi già prima della sosta di Natale, ogni tanto di infilare due o tre vittorie consecutive se vogliamo stare in queste posizioni di classifica, se no continuiamo a fare qualche alto, qualche basso e vedere che produciamo. Però se come tutti noi vogliamo, pensiamo di stare lì, è un test severo. 3-5-2 le chiedo se può essere un'opzione anche per domenica e in base a cosa deciderà il modulo, immagino soprattutto per quanto riguarda la situazione di centrocampo. Va un po' per tutti e due, vanno quasi di pari passo, nel senso che se nel mio cervello, che non è detto che macini una cosa giusta, penso che la squadra che andiamo ad affrontare sia meglio farlo con un modulo a 5, lo cambiamo senza avere la necessità per forza di cose di non avere giocatori a disposizione, se invece non è così ritorniamo alla nostra vecchia maniera, che comunque è il modulo che sappiamo fare meglio. Al di là del risultato di mercoledì, è stata una partita un po' sporchina dal punto di vista tecnico, non abbiamo fatto comunque le solite cose che siamo abituati a fare, un po' cambia la fisionomia della squadra perché va più per vie orizzontali che verticali, un po' anche a disposizione dei giocatori, su qualcosina ci inceppiamo, vediamo se è il caso di tornare al Romo. Come stanno Burzigotti e Salifu se hanno recuperato e poi anche la situazione degli altri come Basit, Buglio e Belloni? Io credo che sia Burzigotti che Salifu, se ho necessità di fargli partire dall'inizio ce la facciano a partire dall'inizio, è sempre un azzardo perché comunque al di là dell'aspetto fisico, un giocatore che è fuori da tanto tempo, spende tanto dal punto di vista nervoso, quindi in partite come questa è il doppio perché l'importanza è tanta e quindi vediamo un po', per gli altri Buglio è recuperato, quindi se non ci sono grandi problemi gioca, Belloni rientra tra i disponibili, non è in condizione di fare 90 minuti, spero di dar una mano durante il corso della partita sì. Come se l'aspetta l'Arzachena? Soprattutto si gioca su un campo inedito per l'Arezzo? Sì, il campo può presentare delle difficoltà ma come l'ha presentato quello di Vercelli o il sintetico di Novara o comunque un campo che non è in perfette condizioni, alle volte pure il nostro non è in perfette condizioni, però insomma nel calcio ci adattiamo a quello che troviamo, più che altro troviamo una squadra che ha bisogno di punti e sono squadre pericolose, pure noi abbiamo bisogno di punti però insomma la fame di chi vede il baratro della retrocessione è diversa da chi se le cose non vanno bene rimane in categoria. Ieri hanno salutato Melgrati, anche Stefano che è andato via, Mosti abbiamo visto in viaggio verso Bisceglie, ci saranno altri giocatori in partenza e poi le chiedo a livello di estremo difensore che tipo di portiere sta cercando l'Arezzo. Sì, noi tentiamo di sfoltirne qualche ad un altro giocatore perché è più facile lavorare per tutti e anche per loro è più gratificante trovare delle soluzioni dove sono impegnati, per il discorso del portiere andiamo in cerca di un profilo giovane se si può perché non abbiamo necessità di mettere un altro over di fianco ad Alberto, non è facile il mercato di gennaio su quel ruolo lì perché a differenza dei calciatori è un ruolo dove passa per un infortunio o per una scelta drastica di qualche società quindi vediamo che c'è a disposizione.